Davvero complimenti al nostro Andrea e a Teresa per aver aiutato il figlio a fare, e anche il marito naturalmente, ad aver aiutato il figlio a fare una strada difficile ma ricca di soddisfazioni. Parliamo dei trasporti, ma non sono quelli aerei, parliamo dei trasporti, le linee urbane. Allora, finalmente domani 7 giugno l'assessore alla mobilità Giovanni Gurrieri ci presenterà questa società, l'Ettra Trasporti, la conosciamo, che ha sempre fatto i collegamenti Ragusa-Aeroporto di Catania, ci presenterà questa società che avrà il compito di trasportare i ragusani senza farli andare con le macchine, sarà difficile, bisognerà convincere i ragusani, bisognerà vedere cosa si può fare proprio per convincere e quindi sarà interessante sentire cosa ci dicono. L'altra cosa importante, sempre dell'assessore Gurrieri, ci ha invitato giorno 11 alla inaugurazione del posteggio di Largo San Paolo. Il posteggio di Largo San Paolo è un altro di quelli, si apre ma mentre non funziona, mentre casca, mentre non c'entrano, mentre all'altezza, l'abbiamo fatto più di 10 anni fa e non ha mai funzionato. Ora, dopo qualche pungolata, l'assessore Gurrieri dice lo apriamo, io invito l'assessore Gurrieri a comportarsi con tutta la stampa allo stesso modo, cioè non avere gli amici, i figli e i figli altri, ma fare una certa, tutti uguali, fare il comunicato, chi lo vuole pubblicare lo pubblica, chi non lo vuole niente, se non lo pubblico poi ti rivolgi a chi vuoi. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con Gianni Papa, parla di sport, di pallacanestro, c'è la bella notizia della Virtus, ma c'è anche la brutta notizia della passa l'acqua. Sentite Gianni Papa, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti.